Sempre Studio 1 RDA Radio 1, naturalmente anche il circuito VRA Web Radio Associate. A proposito di Zaniolo, ho sentito il corsivo dell'amico Vittorio Bellucci, tutte bellissime parole. Poi alla fine però è fogoso, si incazza, incarna la romanità. Questo va bene per lo spettacolo e il folklore. E ci sta, attenzione, ci deve essere e ci sta. Poi però, per vincere qualcosa, per fare punti, per portare la Roma avanti, oltre lo Zaniolo folcloristico di Curva, che ci fa sognare a tutti quanti, serve anche un ragazzo che ha ottime qualità, ha ottime potenzialità, è sopra la media, perché si vede lontano miglio che Zaniolo e il calcio sono legati, dovrà diventare più concreto, lavorare maggiormente per la squadra. Adesso è un momento che sta riaprendosi, piano piano, all'inizio pensavo solo a lui stesso, pallone tra i piedi e ci prova. Ieri ha fatto un gol spettacolare, poi lasciando stare tutto l'archibugio di dietro che abbiamo già commentato. Però questo ragazzo deve imparare che, essendo un professionista di calcio, deve riuscire, ci deve provare almeno, un atteggiamento idoneo che non sia in viso agli arbitri, perché che tu a rientro da un'azione chiedi all'arbitro che cosa hai fischiato e hai detto un altro modo, qualsiasi arbitro tira fuori il cartellino rosso. Fuori discussione questo. Quindi certe intemperanze, certe esplosioni di nervi, certe situazioni dovute anche alla sua giovane età, piano piano devono andare il letargo e devono fare posto a quel campione che noi abbiamo e dobbiamo tenere stretto. Perché questo è un ragazzo dalle ottime qualità che ci può fare un bel salto. Ci vuole anche il resto della squadra, non è solo con Zagnolo che vai avanti. Però siamo ad impostare il primo passo dalle fondamenta per una nuova Roma che sarà di nuovo competitiva. Oggi come oggi è una situazione di rotaggio, ci sono tutte queste situazioni, ma alla fine di questo campionato, quando poi comincerà il prossimo, certe intemperanze non ci devono più essere, pure che ci fanno una serie di torti. E soprattutto, visto che i torti arbitrali ce ne sono a Iosa, si deve costruire una squadra che è un rullo compressore. Ce l'ha insegnato Nils Lidlm, ce l'ha insegnato Fabio Capello, che avevano una squadra veramente degna di questo nome, e anche se gli arbitri ti remavano contrario, tu le partite le vincevi lo stesso. Devi ritornare a quella logica, ci devi provare e devi essere presente su tutti i traguardi. Ci sentiamo alla prossima, un saluto da Roberto De Angelis.